Come vi ho anticipato, adesso parliamo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ieri è stata una giornata intensa che ha portato nuove medaglie per gli azzurri. Il bronzo conquistato da Omar Vizentin nello Snowboard Cross. Ne parliamo con Marco Franzelli. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Marco. Ma prima ci colleghiamo con le Olimpiadi e facciamo un bicollegamento. Giuseppe Rizzo e Marco Clementi, che ci danno tutti gli aggiornamenti per la prima volta insieme su questa scena. Proprio così. Buongiorno. Ciao. Per la prima volta insieme sul luogo del delitto. Sono passati sette giorni esattamente oggi. Con Giuseppe non ci eravamo mai incontrati. Ognuno nella propria bolla. Ci voleva fare bolle. Esattamente, fare questa specie di carambata, questa reunion. Sette giorni dopo l'inizio delle Olimpiadi. Noi da Pechino, con il treno super veloce, sapete, si arriva qua. Si arriva in 26 minuti con un treno che viaggia a 300 km orari. Siamo arrivati noi sulle piste. Siamo andati a trovare Giuseppe, che però non era qui per caso, ma per raccontarci il Super G femminile. Vero Giuseppe? Come è andata? Esatto. Per le nostre azzurre non è andato benissimo. Una gara su cui puntavamo molto. Avevamo schierato quattro assi. Ma non sono riuscite a raggiungere un podio. La nostra Federica Brignone, che ricordiamo ci ha già regalato una medaglia, è quella che si è avvicinata di più al podio. È arrivata settima. Non l'abbiamo incontrata poco dopo la gara. Ci ha detto che ha trovato la pista poco tecnica, quindi non ci si è sentita molto a suo agio, pur avendoci messo il massimo dell'impegno. Però Marco, non è finita. Ci sono ancora tante gare. C'è il biathlon, c'è lo sci al P, c'è lo sci di fondo. E soprattutto oggi... C'è Arianna Fontana. C'è il ritorno in pista Arianna Fontana, che ci ha già regalato due medaglie. Ritorna con lo short track. E vediamo quindi se sarà... Saranno i mille metri questa volta. Vediamo quindi se sarà un'altra medaglia. Perché comincia ad essere un po' il momento di fare qualche bilancio. Che dici Marco? Sette giorni dall'inizio? Sette giorni, sette giorni. Certamente un bilancio per gli azzurri. Noi non ci spingiamo troppo a parlare di questo, per scaramanzia. Però obiettivamente questi primi giorni ci hanno regalato due ori, due bronzi, tanti argenti. Insomma, siamo soddisfatti, siamo partiti bene. Sette giorni fa eravamo all'interno, nel nido d'uccello, per quella cerimonia inaugurale che ci regalava tante emozioni con il maestro del cinema cinese, Zhang Yimou. Sette giorni in cui abbiamo scoperto che anche i cinesi, gli abitanti di Pechino, seppur fuori da questa bolla, quindi sono pochissimi quelli che possono partecipare a le gare, perché sono già in bolla a partecipare, a vedere, insomma, come spettatori le gare. Ecco, comunque si sono appassionati, tant'è che, ve l'abbiamo raccontato, è diventata introvabile la mascotte delle Olimpiadi, il famoso panda, Bing Dong Dong, che poi significa benvenuti a Pechino, quel panda con un involucro di ghiaccio. Anche noi non ce l'abbiamo mai. Anche noi non riusciamo a trovarla, ce lo stanno chiedendo in tanti anche dall'Italia. Sette giorni purtroppo velati, proprio in questi ultimi giorni, però anche dalla vicenda doping. È una vicenda triste, quella che vi dobbiamo raccontare. È stato trovato positivo, un atleta iraniano è stato squalificato. Ma poi c'è la storia di Camila Valieva, che è, diciamo, sguardo da bambina e classe da gigante, ha solo 15 anni, è l'astro nascente, ma ormai è già una conferma del pattinaggio di figura russo. Pensate, l'unica donna, o meglio, poco più che una ragazzina, ad aver fatto un salto quadruplo a un'Olimpiade. Ecco, ha vinto l'oro, ha portato la sua squadra all'oro, ma poi, al momento della cerimonia, c'è stato un vero giallo, cioè l'oro non è stato assegnato. È arrivata la notizia che è risultata positiva al doping. Addirittura dal 25 dicembre risale questo episodio e si è saputo, praticamente, al momento della consegna della medaglia, ha preso una sostanza che si chiama, è quasi impronunciabile, trimetadizina, ossia un farmaco cardiaco che aiuta la resistenza. A noi sembra una storia più grande di lei. La Federazione Russa ha fatto ricorso, lei dovrebbe gareggiare il 15, siamo in attesa di sapere appunto come andrà al ricorso. La storia vera è che, come dire, la Russia sembra ricascarci. Sapete che la Russia non gareggia come Russia, ma come ROC, cioè Russian Olympic Committee, una specie di escamotage, perché è stata squalificata dopo aver accertato quattro anni di doping di Stato dal 2011 al 2015. Insomma, davvero una brutta storia che arriva a sette giorni di queste Olimpiadi, invece, tanto positive per altri motivi, insomma, che ci stanno piacendo e ci fa piacere raccontarvi. Grazie, grazie Marco Clementi, grazie Giuseppe Rizzo. Posso dire una cosa a Marco Clementi? Vai, vai. Marco, vuoi aggiungere un nome alla lista delle persone che ti hanno chiesto la mascotte? Monica Giandotti. Monica Giandotti. Monica Giandotti. Ma certamente, almeno due, Monica Giandotti e Marco Fritella. Non posso dire nulla, perché sono introvabili, sono veramente introvabili. Se volete. Al peggio ve le spedisco, io poi rimango in Cina, quindi prima o poi la troveremo la mascotte. Se vede avanza uno, vabbè, ve lo chiedo pure io. Grazie. Ciao, ciao. Tornate nelle bolle adesso in questo momento. Grazie. Marco, facciamo allora un bilancio di... Beh, quello che è accaduto oggi ci dà proprio l'idea di quanto sia strano e se vogliamo anche ingiusto lo sport, perché tutti si aspettavano una medaglia da Federica Brignone e da Elena Curtoni. Hanno vinto tre gare la Brignone quest'anno, una la Curtoni e invece sono andate malissimo. Ma anche la sorpresa dello sport. Chi avrebbe mai detto l'Italia che vince nel curling? Quindi da una parte abbiamo la vittoria nel curling che nessuno si sarebbe mai aspettato, dall'altra invece la medaglia più attesa, quasi data per sicura, invece è venuta, è sfuggita via. E abbiamo sentito, diceva Rizzo, la Brignone ha detto la pista è tecnicamente molto facile, paradossalmente troppo facile. È una pista nella quale bisognava solo fare, come dicono nel gergo, correre gli sci. E le due atleti italiane invece sono tecnicamente molto brave, quindi su una pista così tecnica non hanno avuto quella capacità di far correre gli sci. E peccato che non ci fosse Sofia Goggia, perché lei in questo è la più brava e ci proverà in discesa libera se riuscirà a superare il dolore al ginocchio infortunato. Senti Marco, ma sono molto d'accordo con te sulla vicenda del curling, che è davvero una storia quella molto molto bella, ma anche considerando quanti sono i praticanti e i tesserati di questo sport in Italia, circa 300, ma sullo snowboard, che è l'altro sport che mi appassiona moltissimo, noi abbiamo preso un bronzo. Sì, con questo ragazzo Omar Visentin, lo snowboard è entrato a far parte del programma dell'Olimpiade, proprio qui in Italia, nel 2006, nelle Olimpiadi di Torino. Come sapete, lo snowboard è uno sport molto amato dai ragazzi, anzi c'è un certo conflitto sulle piste di sci, tra chi pratica lo sci tradizionale e chi pratica lo snowboard, si cerca di evitare questo incrocio. E pensate, Omar Visentin, due mesi fa, primi di dicembre, è caduto in Coppa del Mondo e ha avuto un trauma cranico, l'allussazione del gomito e un danno al legamento della spalla, quindi sembrava anche in questo caso, dice, addio. E invece è riuscito a riprendersi, è ritornato a gareggiare due settimane fa, è partito per Pechino senza troppe speranze, si è ritrovato in finale, partito per ultimo, ha rimontato una posizione, si è preso una medaglia di bronzo. che sia questo insieme di buon auspicio per Sofia Goggia, che deve però tentare un recupero molto più difficile, perché i suoi tempi di ripresa sono più corti e la discesa libera è obiettivamente una specialità che richiede molto al fisico, oltre a essere pericolosa in caso di ulteriore caduta, a chi si trova in quelle condizioni, nelle condizioni in cui è Sofia. Grazie Marco. Grazie a voi e a Monica, che ama le Olimpiadi, invece del pupazzo, 18,50, cerchi azzurri su Rai 2 per sapere tutto quello che è successo. Non manco, non manco, in bocca al lupo. Poi un pupazzetto lo troveremo da qualche parte. Grazie Marco Fratelli, adesso è il meteo. Grazie a tutti.